E' bello a tutti ragazze e ragazze per avermi interessato nel suo video video Oggi siamo su un buon tazzo Questo video lo faccio in questo video perché voglio fare un video così a casa Mi rimane da fare solo l'assedio Oggi sono salito un po' di coppe Ieri insieme avevo trovato No non insieme purtroppo non ho registrato Ho trovato Carlo E ora andiamo a dare Il nostro caro broccoli Perché è molto forte ragazzi Non pensate ma è molto forte e molto troppo forte E ho più quanto lo schifo Poi esattamente sicuro per farci randerare Il nostro caro è un po' di spettacolo Il nostro caro è un po' di spettacolo Il nostro caro è un po' di spettacolo E' 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 un po' di spettacolo Il nostro caro è 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 un po' di spettacolo Quello che fa Non è un po' di spettacolo E' un po' di spettacolo ragazzi si ritorni wow sono sconata ma anche in stile ok poi perdiamo intanto un più dodici non ci togli nessuno quindi ci droppiamo sennò comunque più di primi non 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.